Si stanno concludendo le esercitazioni cinesi nel mar di Taiwan, esercitazioni che sono state la reazione rispetto all'incontro tra la Presidente della Repubblica Cinese di Taiwan, precisiamo, non è ovviamente la Repubblica Popolare Cinese, e lo speaker della Camera degli Stati Uniti, McCarthy. Ci sono state delle reazioni anche quando la precedente speaker, Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, democratica, ha incontrato e ha fatto il viaggio a Taiwan, ha incontrato le istituzioni della Repubblica Cinese. La reazione è stata, quella cinese, è stata sia all'ora delle imponenti esercitazioni, sia in questi giorni delle altre esercitazioni che comunque sono state valutate dagli analisti militari, meno imponenti rispetto a quelle come reazione rispetto a Nancy, al viaggio di Nancy Pelosi. Tuttavia siamo sempre di fronte a un'escalation, un'escalation che è avvenuta praticamente in coincidenza con la visita di Macron e della von der Leyen al Presidente Xi, e peraltro sembra quasi che Macron sia stato influenzato da Xi, perché ha fatto delle dichiarazioni dove si è reso indipendente e ostile alla dipendenza, più propriamente si dichiara ostile alla dipendenza dagli Stati Uniti, pretende di avere un'autonomia strategica come Europa, ovviamente a guida francese, e ponendo anche questa domanda, è nostro interesse accelerare una crisi con Taiwan, su Taiwan? Ovviamente no, però questa domanda potrebbe essere rivolta nei confronti della guerra Russia-Ucraina, e anche in questo caso non è nostro interesse. Poi Macron, dopo queste dichiarazioni che se applicate all'Ucraina potrebbero far parlare di una distanza tra gli Stati Uniti e la Francia, in realtà Macron ha precisato che non siamo equidistanti rispetto a Cina e Stati Uniti, quindi intendendo che sono più nell'asse atlantico, ovviamente. Diciamo che però siamo in un periodo particolare, perché dal punto di vista militare c'è un riarmo, un riarmo della Germania, un riarmo per l'escalation vicino a Taiwan molto importante, quello del Giappone, Giappone che ha una zona economica esclusiva, che praticamente è vicino a Taiwan, e poi al nord, un'altra zona economica esclusiva al nord di Taiwan, che confina direttamente con la Cina, quindi c'è un aspetto importante, qui infatti la Cina ha visto il riarmo e la dipendenza del Giappone dagli Stati Uniti come un elemento estremamente negativo e pericoloso. Infine c'è il superamento di fatto dell'articolo 9, relativo al fatto che il Giappone rinuncia alle forze armate, come rinuncia alla guerra come diritto sovrano, perché in realtà questo riarmo contraddice proprio questo aspetto. La situazione strategica è una situazione strategica molto pericolosa, di vera e propria deglobalizzazione, e sotto questo profilo il rischio è che a un'escalation in Cina, su Taiwan, possa seguire un'ulteriore escalation nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, da un lato spingendo la Cina ad aiutare la Russia, dall'altro lato addirittura ha uno sconto strategico che non è escluso dai documenti strategici degli Stati Uniti e che è ritenuto possibile. Rinviamo comunque a un appuntamento, all'appuntamento Pace Giusta, Pace Possibile, di venerdì 14 aprile alle ore 20 e 30 alla Casa della Madonna Pellegrina, centro di convegni della Diocesi di Concordia Pordenone, in via Madonna Pellegrina 11. Quindi avremo la possibilità di confrontarci con la dottrina di Papa Francesco sulla guerra, con il dottor Alessandro Castagnaro, sociologo e presidente dell'Osservatorio Socioreligioso del Triveneto, con il sottoscritto come presidente di storia, l'IMES Club Pordenone Udine Venezia, come docente di diritto pubblico, su questo tema, cioè a un anno dall'invasione dell'Ucraina, fare il punto in una prospettiva vicina alla dottrina di Papa Francesco sull'invasione della Russia rispetto all'Ucraina. E quindi diamo a tutti l'invito, facciamo a tutti l'invito proprio per questo appuntamento.